E se vi dicessi che il futuro del lavoro è già tra di noi, quanto sono importanti i soldi nelle grandi decisioni della propria carriera? Oggi mi trovo a Milano e incontro Annalisa Monfreda, ex direttrice di Donna Moderna e cofondatrice di Rame. Io sono Luca Sartoni, questa è Leadership Cosmica e siamo alla ricerca del futuro del lavoro. Leadership Cosmica è un podcast prodotto da Cosmico, la piattaforma che connette le grandi aziende con i migliori talenti del digitale e crede che un nuovo mondo del lavoro sia possibile. Quindi dopo nove anni te ne vai? Sì, ma non dalla sera alla mattina, cioè ci ho messo due anni a preparare l'uscita. E come si prepara un'uscita in due anni? Allora, la prima preparazione è stata un po' finanziaria e economica, nel senso che ogni volta che tu prendi una decisione di questo tipo, cioè è chiaro che ti cambia proprio la geografia di quella che è la tua vita finanziaria ed economica e quindi dovevo mettere a posto un po' di cose. Però la preparazione più importante di cui avevo bisogno era legata alla mia identità. Cioè io avevo costruito un'identità che era profondamente legata a quel lavoro e anche, mettiamocelo dentro, a quel tipo di stipendio. Nel senso che noi viviamo in una società che comunque ti dà valore anche per quello che guadagni. E quindi ho dovuto un po' decostruire tutto questo. Considera che io ho fatto una fatica pazzesca a darmi quel valore, ad arrivare a dire, ok, Annalisa, tu per valere devi esigere di essere pagata il giusto, devi costruire una fiducia in te stessa, no? E dovevo smontare tutto e dire, ok, non importa, tu comunque hai valore anche se moli tutto, anche se non avrai più un job title, anche se dovrai ricostruire tutto da zero la tua identità lavorativa. Sono stati due anni bellissimi e terrificanti, però devo dire che è fondamentale attraversare questo tempo, no? A darsi il tempo, perché o te lo dai prima o te lo dai dopo. Io sapevo che dopo non potevo permettermi di darmi il tempo, dovevo subito rientrare nel meccanismo produttivo e quindi me lo sono preso prima. E come vivevano le persone intorno a te? Cioè immagino che le persone che lavoravano con te sapevano tutte che erano due anni di cambiamento o era un cambiamento tuo? No, era un cambiamento mio sicuramente, perché ecco, questo è un tema di leadership importantissimo, tu non puoi tenere un capitano che sta lasciando una nave alla guida per due anni. Quindi questo è stato una maturazione personale, completamente personale, che non ha avuto, diciamo, nessuna controparte nel mio team. Cioè è forse la fatica maggiore che ho fatto, esatto, è stata tenere il timone in quei due anni, mentre smontavo la mia identità sul piano personale, però sul piano lavorativo dovevo tenere la barra ed erano due anni particolarissimi, perché erano il 2020 e il 2021, gli anni in cui iniziavamo a lavorare in smart working, si ponevano tutta una questione di leadership importantissime ed è stato bello avere una sfida professionale da una parte e una sfida personale dall'altra, mi ha tenuto in vita. E tu, durante la tua carriera, avevi portato cose come la leadership distribuita, avevi cambiato un sacco di processi. Questa cosa ti ha aiutato poi nella fase di cambiamento? Assolutamente sì. È come se io avessi lavorato tutta la vita per questo. Avessi lavorato anche con il mio team, devo dire, perché è chiaramente stato traumatico poi raccontare che me ne andavo, però mi sono resa conto che gli avevo preparati tutta la vita a questo cambiamento, che quei nove anni per noi erano stati nove anni di cambiamento continuo, di lavoro sull'innovazione, di lavoro sulla trasformazione, quindi era molto coerente con quello che avevo raccontato loro, era coerente con i percorsi che noi abbiamo fatto insieme, quindi sì, assolutamente è stato molto utile. Per la tua famiglia questo cambiamento? Come è stato? Loro lo sapevano da prima però, non li hai avvertiti solo alla fine dei due anni? Sì, allora ci sono due livelli della famiglia, uno è quello del complice, che è il partner, no? Con cui la conversazione avveniva da due anni ed è stato fondamentale, quella conversazione è stata importantissima con lui, perché quando noi prendiamo una scelta, non so, è capitato anche a te di fare scelte folli, però io ho avuto bisogno di avere un complice al mio fianco che nel momento in cui mi calava la motivazione, non ci credevo più, diciamo, riaccendesse la fiamma e nel momento in cui facevo voli pindarici, farò, 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 mi riportassi a terra. Quindi il complice è stato fondamentale e tra l'altro non l'avrei neanche fatto se nella nostra coppia non ci fosse stata una dimensione di squadra profonda, nel senso che anni prima io l'avevo motivata a lasciare un lavoro tossico dicendoli non ti preoccupare, ci penso io, tu studia, tu troverai altro e questo era il suo turno, quindi se noi non avessimo questa squadra io non l'avrei mai fatto. L'altro tema invece è le ragazze, le ragazze le ho tenute fuori da questa scelta, forse anche sbagliando, col senno di poi magari le avrei coinvolte prima, però nel momento in cui ho capito che dovevo coinvolgerle l'ho fatto inizialmente in una maniera un po' sbagliata e cioè dicendo che da questo momento in poi cambia anche la vostra vita, dobbiamo ridimensionare diciamo le vostre richieste, cioè l'ho fatto su quel piano e lì ho avuto una reazione da parte di mia figlia, ecco, la solita capricciosa rivolta a me che prende e se ne va a cambiare lavoro per inseguire le sue passioni. E questa è una narrazione completamente sbagliata, io lì ho sbagliato, dopo l'ho riposta questa narrazione con le figlie sul tema invece della creazione. Mamma va via per costruire qualcosa, è un momento di grande creatività, facciamolo insieme. E quindi lì sono diventate un pozzo di idee, sono super entusiaste sempre, perché sono state coinvolte sul piano della creatività, non sul piano del riduciamo le nostre spese, riduciamo il nostro stile di vita. Ma quindi da un punto di vista finanziario come si fa un salto del genere? Guarda, nel mio caso ci è voluto veramente un grande lavoro, perché cosa succede? Dopo che tu hai trascorso diciamo 15 anni della tua vita, facendo un lavoro molto prestigioso e quindi anche molto ben pagato, cominci a pensare di aver bisogno di molte più cose di quelle che poi effettivamente diciamo compongono la ricetta della tua felicità, perché non hai più il tema di ok, ma cosa mi servirà veramente, no? E quindi costruisci un set di bisogni assolutamente inesistenti che però pensi che siano fondamentali per te e per la tua famiglia. Allora la prima cosa per me è stata guardare non quanto spendevo, perché quanto spendevo io lo sapevo già, ma come spendevo i miei soldi, parlare con il mio conto in banca e chiedergli ma questo modo di spendere i soldi mi rispecchia? Spendo i soldi per essere felice, per farmi felice, per essere me? E ho scoperto che non tutti i soldi che spendevo erano spesi per essere me. E quindi lì, in quei due anni famosi di preparazione, ho cominciato a tagliare tutto ciò che potevo tagliare, quindi ancora avendo uno stipendio buono, per vedere se quei tagli mi provocavano uno scompenso e soprattutto se quei tagli minassero la mia motivazione a lasciare il lavoro. E mi sono resa conto che riuscivo a tagliare tantissimo senza neanche accorgermene. Tantissime cose, faccio l'esempio, ma questo perché per me non ha valore quello, non so, spendevo tantissimo in cena e al ristorante, ma era solo per pigrizia, perché poi spesso scendevamo di casa, andavamo a mangiare fuori e ritornavamo su dopo mezz'ora. Non era per il piacere di gustare, era semplicemente per pigrizia. Quindi tante di queste piccole cose mi hanno fatto vedere che ciò di cui avevo bisogno per vivere era molto meno e che quindi potevo immaginare una vita in cui le entrate diminuissero e gran parte, diciamo così, di quello che mi entrava venisse reinvestito nella creazione di valore. Quindi questo approccio sistematico alla finanza personale e familiare viene prima o dopo Rame? Guarda, un po' in contemporanea, nel senso che il primo progetto in nuce di quello che poi è diventato Rame addirittura io l'ho ritrovato tra le mie carte nel 2015. Poi non l'avevo realizzato e dopodiché, mentre in quei due anni mi preparavo all'uscita e quindi cercavo un progetto su cui lavorare e nel frattempo avveniva questa trasformazione, Rame è stato proprio come, non so, il fiore che sbocciava. Dicevo, vedi, tutto ha un senso, tutto fila, tutto sta tornando. E Rame esattamente di cosa si occupa? Rame è proprio una piattaforma che vuole accompagnare le persone a questo tipo di conversazione col proprio conto economico, una conversazione progettuale, vuole accompagnare le persone a capire che i soldi sono lo strumento della loro libertà e che certe volte vale la pena perderli per essere liberi, certe volte vale la pena investirli. Quindi tu devi capire in quale strumento li vuoi trasformare. Quindi questo lo stiamo facendo con un progetto media, quindi c'è tutta una parte di podcast, di newsletter, ma poi anche con un'app che aiuterà le persone proprio a passare all'azione, quindi a fare dei cambiamenti nella propria gestione finanziaria. Perché la gestione finanziaria per me è sempre stata una questione estremamente interessante, nel senso che le persone che ho visto nella mia carriera riuscire ad avere un pensiero strategico da un punto di vista professionale, poi erano anche quelle che avevano un pensiero strategico anche nella gestione dei propri soldi. E invece dall'altra parte chi era carente nella visione strategica dei propri asset che a livello personale poi sono i propri soldi, era carente anche nella visione strategica quando andava a lavorare, anche solo semplicemente l'idea di pensare alla propria carriera come un percorso e non come ho trovato lavoro. Sì. Ma ti dico di più, in realtà spesso e volentieri noi siamo quasi scissi tutti quanti noi. Magari siamo anche bravi nella costruzione di un budget per il nostro... Per esempio io ero una che teneva i conti di Donna Moderna in una maniera pazzesca. Cioè quella cosa che io ho fatto sulla mia vita personale nei due anni in cui stavo decidendo di lasciare il lavoro, io la facevo quotidianamente nella mia azienda ed era uno dei miei punti di forza. Cioè riuscire a vedere nel lungo periodo, riuscire a capire che quel mondo lì professionale stava morendo e io dovevo... Cioè quel mondo produttivo più che quel mondo professionale. Cioè stava morendo e io dovevo in qualche modo cambiare le modalità di creazione di valore. Quindi io quella cosa a livello professionale la facevo ma a livello personale no. Ed era un'occasione perduta incredibile e poi lavorando su questo tema mi sono accorta che un sacco di professionisti anche i migliori sul campo diciamo a fare un business plan a guardare nel lungo periodo per le loro aziende poi a livello personale sono un disastro e questo è la conseguenza in realtà di un tabù che abbiamo come se fosse una cosa sporca occuparsi dei propri soldi ma invece ha valore se mi occupo dei soldi e della buona salute della mia azienda. E sei passata da gestire tre giornali con 60 persone sotto di te a un team adesso di 5? Adesso di 5 è una grande gioia perché per un anno e mezzo siamo stati in due io e la mia socia. Allora devo dirti che quando ho lasciato uno dei pesi più grandi che sentivo era proprio il peso della leadership nel senso di cura delle persone. Per come ho interpretato sempre io la leadership quindi molto veramente al servizio quella cosa a un certo punto era diventata veramente pesante e secondo me tutti quanti noi tutti i leader avrebbero bisogno di un momento di vacanze dal suo dal proprio ruolo di leadership quindi sicuramente è stato un anno di fatica incredibile perché ho dovuto ricominciare a imparare a fare delle cose che non facevo da anni ho dovuto imparare a montare con i tutorial di youtube quindi ho rimesso completamente le mani in pasta io che mi ero allontanata dall'attività pratica però ho respirato e ho cercato veramente di recuperare le energie che mi erano state drenate tantissimo dalla cura del team poi dopo non vedevo l'ora che Rame crescesse che la scommessa insomma funzionasse per poter ricreare un team che adesso è ancora piccolo ed è una grande novità per me perché è un team piccolo ma molto molto giovane mentre considera che la mia sfida professionale fino a quel momento era sempre stata di arrivare nei posti di lavoro trovare team preformati quasi tutti con un'età superiore alla mia non poter praticamente mai scegliere una persona neanche una persona più giovane e quindi nei 15 anni prima avevo vissuto una sfida di natura diversa riuscire a far avere fiducia nei miei confronti da parte di team molto ma molto senior adesso invece è una sfida di natura completamente diversa far crescere delle persone e io ogni mattina mi sveglio ed è emozionante perché credo di non aver mai insegnato a niente a nessuno adesso per la prima volta provo questa cosa capisco che emozione può dare e dico incredibile che in 15 anni non l'avesse ancora mai provata adesso non insegnare niente a nessuno non ci credo perché comunque tu hai portato dei cambiamenti all'interno delle redazioni leadership diffuse insomma hai portato dei cambiamenti e di questi cambiamenti e di queste esperienze cosa ti porti e cosa vorresti portarti poi in futuro quando la tua organizzazione crescerà ancora certo allora io ho fatto tutte quelle trasformazioni che citi anche perché arrivavo in gruppi di lavoro veramente molto molto professionalmente molto più forti di me stessa cioè erano tutte persone con un'esperienza professionale incredibile e io per tanti anni cosa ho fatto ho inseguito la loro capacità per diventare brava come loro cercando di colmare il gap di anni che mi mancavano perché avevo molta meno esperienza a un certo punto quando ho capito che quella rincorsa era totalmente inutile ho detto ma io che cosa posso fare per questo team ho detto metto al servizio del team la mia in esperienza e quindi provo a cambiare il metodo di lavoro cioè a fare le cose che loro hanno sempre fatto perché hanno sempre pensato che si potessero fare solo così provo ad immaginare un modo diverso di farle e lì sono nate tutte quelle innovazioni e lì siamo diventati squadra perché io mettevo sul piatto la mia inesperienza loro la loro esperienza e da quel mix meraviglioso veniva fuori la vera innovazione perché la prima senza la seconda non può fare niente e viceversa adesso la sfida è diversa perché? perché io devo dare l'altra parte io a questo punto devo dare l'esperienza ed è la prima volta che mi succede ed è bellissimo perché non ti nego che ho avuto una crisi di autostima anche quando ho lasciato il lavoro perché pensavo vabbè io ho sempre imparato tutto dai miei vicini di scrivania cosa ho da dare io al mondo del lavoro e adesso per la prima volta dico però ho imparato un sacco di cose e le posso trasmettere viceversa devo trovare adesso il modo di mettere la squadra in condizione di poter mettere a fruttoli in esperienza perché quando l'ho fatto io io ero il capo quindi potevo farlo ci è voluto uno scatto mentale ma poi avevo tutti i titoli per dire ok proviamo ad innovare adesso queste ragazze questo team è un team che comunque non ha il potere decisionale quindi si tratta di abilitarli a innovare di abilitarli a dire la loro anche quando sono in disaccordo con me quindi si tratta di creare un sistema di sicurezza che permetta loro di fare quello che io prima facevo dallo scrano di leader e quindi quanto è difficile insegnare alle persone essere vulnerabili nella propria esperienza intanto non glielo puoi insegnare glielo puoi solo mostrare cioè puoi soltanto creare un ambiente dove tu per prima mostri le vulnerabilità tu per prima fai vedere che si può sbagliare e che non c'è niente di male e che dopo ogni errore andiamo lì ce lo celebriamo con una birra che anzi quella è stata un'occasione per fare squadra per sentirci ancora più vicini e sperare che la creazione di questo ambiente matchi con il vissuto di quella persona che è davanti perché tu non lo sai quella persona ha un vissuto che magari la rende cioè le rende difficile l'essere vulnerabile per altri motivi che non dipendono da te quindi tu non puoi cioè tu puoi solo creare le condizioni e sperare che queste condizioni abilitino la confidenza con l'errore ecco adesso che hai la possibilità di fare recruiting quali sono le caratteristiche che cerchi nelle persone che eventualmente lavoreranno con te allora guarda bella domanda se devo vedere un pattern ricorsivo nelle persone che abbiamo scelto io e la mia socia in questo periodo c'è una caratteristica che non è la principale caratteristica chiaramente che cerchiamo però le accomuna tutte sono tutte persone che hanno parlato in maniera molto chiara ed esplicita di soldi fin dal primo contatto di lavoro e questo è fondamentale ed è prezioso perché spesso e volentieri qualcuno magari ti avrà risposto se fai questa domanda cerco persone che abbiano passione per quello che fanno no la passione lasciamola stare anche perché la passione diciamo è una trappola per loro ma è una trappola anche per chi li assume perché dipende probabilmente può dipendere da delle variabili molto molto complesse che sono totalmente indipendenti da quello che noi stiamo lì a fare il tema economico è fondamentale perché perché tu devi essere certa di avere persone che non abbiano il pensiero dei soldi mentre stanno lavorando cioè che quella quella questione sia assodata poi sta a te chiaramente nel momento in cui li fai lavorare bene a non far mai a non andare mai oltre con le tue richieste rispetto a quello che è stato pattuito però il fatto che loro possano mettere da parte la questione economica e concentrarsi su tutto il resto è prezioso tra l'altro studiando tanto questi temi c'è proprio un tema legato alla remunerazione cioè nessuno nessuno se non quelli che fanno lavori molto ripetitivi e ha pochissimo diciamo valore di partecipazione solo quelle persone in qualche modo legano la motivazione al lavoro a quanto vengono pagate per tutti gli altri la questione economica non è mai un driver di motivazione per lavorare bene o lavorare male ma può essere un grande fattore demotivante nel momento in cui non è chiarito prima cioè una volta raggiunto una certa soglia diventa la condizione necessaria e sufficiente e a quel punto si inizia poi ad andare su altri motivatori esatto e lì mi piace lì è dove mi piace giocare perché lì puoi giocare su di una crescita che è una crescita di competenze lì puoi giocare su di un ambiente di lavoro molto sano molto pulito che ti arricchisce e lì mi piace tantissimo e mi piace tantissimo anche riportare poi la questione economica nel momento in cui c'è un particolare successo nel momento in cui va riposta non è che quella questione è chiusa per sempre viene sempre riaffrontata anche perché avendo tutto un team che parla continuamente di soldi vi assicuro che viene ripresentata continuamente la questione però viene ripresentata in una maniera veramente molto diciamo motivante quindi se non consideriamo più i soldi come motivatore primario quali sono i motivatori? allora il primo secondo me è l'apprendimento e quindi tu datore di lavoro ti devi assicurare che ci sia una condizione di apprendimento continuo per il tuo team che quindi ogni non dico ogni giornata di lavoro ma ogni mese ci sia un qualcosina in più che viene che va ad arricchire quella che è la loro competenza poi un secondo motivatore secondo me fondamentale è la leadership perché se tu ci pensi la fatica che fanno tutti i ragazzi nel mondo del lavoro oggi è avere esperienze di leadership da mettere nel loro curriculum e io anche soltanto con la mia staggista quando ho descritto il lavoro che sarebbe andato a svolgere con me gli ho messo proprio gestione di un team di lavoro gestione di un progetto complesso quella cosa che avevo sperimentato appunto in Donna Moderna l'avevo sperimentata con dei senior cioè quella di dare responsabilità di crescere leader adesso lo sto facendo per la prima volta con dei ventenni offrendo loro l'opportunità poi di lasciarmi di abbandonarmi perché sono diventati troppo bravi e possono prendere dei ruoli di maggiore responsabilità magari che io al momento non posso offrire loro e poi diciamo sicuramente il terzo grande motivatore oggi soprattutto per i giovani è la salute mentale cioè garantirgli un ambiente di lavoro dove magari non stanno guadagnando tanto come guadagnerebbero una grandissima azienda ma tu gli garantisci un ambiente di lavoro sano e sano quando io parlo di salute mentale io alludo non soltanto alle dinamiche non tossiche quindi dinamiche di feedback di cui tu sei grande esperto cioè tutto perfetto ma anche l'ammettere legittimare che loro nel tempo del lavoro possano avere delle attività più importanti da svolgere quante volte io ho contattato i miei collaboratori mi hanno detto scusami sono in sciopero e l'ho scoperto in quel momento per me è il loro attivismo per me è tutto ciò che appassiona tutto ciò che è importante per loro è importante anche per me e me ne faccio carico e quindi non ecco proteggere sostanzialmente il lavoratore come persona nella sua totalità secondo me è la cosa che sul mercato noi possiamo offrire e saremo unici o se non nei pochi a farlo in questo momento storico in questo ambiente in questa industria che è quella tech dal mio punto di vista ce n'è un gran bisogno perché se guardiamo anche l'avanguardia della comunicazione in questo momento nell'ambiente tech è suggerire appunto prendersi pause prendersi momenti di autodiflessione self care che per me è sintomo proprio di un'industria in cui questo manca in maniera radicale esatto esatto assolutamente poi tu lo vai un po' a costruire in una maniera posticcia quasi come se tu devi insegnare ad una persona a prendersi cura di sé vero ma la verità è che ognuno di noi sa come prendersi cura di se stesso e tu leader devi soltanto capire qual è il modo di ciascuna delle tue persone di prendersi cura di sé per uno può essere la sua seduta dallo psicologo con il suo tempo intorno e una delle mie collaboratrici è meravigliosa perché lei dice quell'ora lì dove tu leggi psicologo mi devi dare un'ora prima un'ora dopo perché per me è un tempo di cura di me e quindi ognuno avrà il suo tempo di cura tu devi solo rispettarlo e anche normalizzarlo assolutamente noi parliamo continuamente delle nostre sedute dallo psicologo di tutte le cose che magari possono sembrare anche dei nostri attivismi perché ognuno di noi poi è attivista in modo diverso e quindi ha un tempo che dedica proprio alla collettività e ognuno di noi e ha una sua collettività a cui dedica tempo per esempio io sono l'unica nel mio team che ha dei figli e io parlo del tempo dei miei figli che equivale ed è importante quanto il tempo che una delle mie collaboratrici dedica alle sue battaglie civili che è equivalente al tempo che una dedica a fare le immersioni perché sta imparando ad andare sott'acqua quindi ha tutto valore Annalisa è stato un enorme piacere fare questa chiacchierata grazie mille per il tuo tempo grazie mille per la disponibilità grazie mille a te grazie mille a te davvero grazie grazie a te da Annalisa ho imparato che i soldi sono molto importanti ma non sono tutto per lavorare bene e anche quando si affrontano fasi di grande cambiamento sono solo una parte dell'intera equazione io sono Luca Sartoni questa è Leadership Cosmica ci vediamo alla prossima avete ascoltato Leadership Cosmica un podcast prodotto da Cosmico l'autrice e project manager è Fulvia Palacino la direzione scientifica e la conduzione sono di Luca Sartoni il sound design e l'editing sono di Visual Acer la brand coordination è di Lea Gislank la visual identity è di Claudio Mammana e la visione è di Lea Gislank la visione è di Lea Gislank la visione è di Lea Gislank